Boom! Ciao a tutti ragazzi, sono sempre io, iZPyroMan97 come vedete oggi siamo qua in un video un po' diverso da particolare un vlog... perché come vedete ultimamente non sono attivo per nulla anzi questo video lo caricherò così a caso, random, passiamo un video e l'ho fatto, perfetto, è così che funziona la logica dei miei video ma appunto come sapete, non lo sapete non ho pc fisso bene si, come vedete questo schema è spento qua c'è il mac è il mio mac portatile però sembra un fisso un mac a 32 pollici comunque appunto non c'ho fisso e quindi non posso fare nulla cioè non posso giocare posso registrare col mac e xbox ma sinceramente non so cosa fare ho provato a fare la serie come sapete quella giocando scomodamente ma l'ho fatta per 10 minuti e subito lo postavo male avevo mal di pancia, avevo mal di testa e non l'ho mangiato perfetto e quindi non l'ho più registrata è saldato tutto dopo però volevo dirvi una buona notizia finalmente ho registrato il video e la prodotto doveva essere dei 500 iscritti però che sono stupido e sono ritardato e quindi sarà dai 600 iscritti traguardo stupendo noi li abbiamo tutti come sapete così quindi grazie a tutti i 605 iscritti ho contato un minuto fa eh non venite a dirmi di no perché è così appunto ho registrato lo speciale dei 600 iscritti vi dico semplicemente che sarà epico non dico nient'altro sarà stupendamente epico sarà perfetto lo sto se l'ho registrato oggi ci ho impiegato circa due ore per fare tutte le clip e ora aspetto soltanto che mi arriva il fisso oggi che sto registrando il video è sabato il fisso mi arriva lunedì e quindi lunedì inizio a editare questo video probabilmente voi lo vedete domenica quindi domani mi arriva il fisso domani a tarda sera sulle 4 e mezza mi arriva il fisso inizio ad editarlo penso che ci impiegherò comunque un po' di tempo 3-4 giorni quindi subito voi precisamente dopo questo video vedrete il video di 600 iscritti eh? sono organizzato bene eh? sono proprio organizzato esatto poi tanti progetti continueremo ovviamente la serie di spere di minecraft spere di minecraft con catastrofe che ho visto che vi sta davvero piacendo molto poi ho fatto un piccolo update del mio setup ora vi mostro un attimo cosa ho preso non c'è colpa i più intelligenti avranno già capito che cos'è? sdoppiatore VGA benissimo che scopetto perchè? voi direte ma che cazzo te ne fai lo sdoppiatore VGA che c'è solo due schermi guardate un po' ragazzi guardate un po' oh 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 tararadatta si c'è un altro schermi piccolino però c'è poi in futuro e prenderemo un'altra come queee stop ma nulla come avete guardato qua con il mio mac è l'unica cazzo fatto l'unica cosa che ho per fare qualcosa è il mac e con le mie cogetti di quello class passiamo a settimana senza fissa va bene non è vero difficilissimo comunque niente questo video qua non voglio dilungarmi troppo perchè voglio caricarlo in 5 minuti si quindi non lo so se questo video è inutile vi lasciate un bel piaccio per cui tutto il tempo ci sono stupido con questo che raccomando non pensate che sono stupido quindi niente vi lasciate un bel piaccio commentate iscriviti ciao a tutti